Una città cuneo, una parrocchia, cuore immacolato di Maria, un terreno delle suore, nasce così l'orto per ricominciare una seconda vita. Sì, l'orto nasce da un sogno, il sogno è quello di ridare dignità delle persone che non hanno un lavoro. La maggioranza delle persone che vengono in parrocchia non chiedono elemosine e soldi, ma chiedono un lavoro. E allora abbiamo detto partiamo, partiamo per un orto, la terra ci è stata data disponibile dalle suore Giuseppine, abbiamo trovato dei volontari lavoratori alla grande e siamo partiti. Uomini e donne rimasti soli per mille drammi. Immigrati e italiani vittime della crisi e i volontari li guidano tra patate e pomodori. Abbiamo già raccolto in questi primi mesi 350 kg di roba, siamo solo all'inizio, ci hanno lavorato un po' a turno 10-12 persone, poi magari trovano un lavoro, se ne vanno, ne arrivano degli altri, è tutto un turnover di gente che qui si trova bene e lavora serenamente. La nostra verdura va nei centri viveri che hanno un sacco di cibo ma hanno pochissimo cibo fresco e quindi anche quelli che non lavorano qui ma che prendono la verdura di questo orto hanno poi alla fine una dieta migliore e vivono meglio. Il raccolto finisce anche nelle borse per chi fa fatica o viene venduto per le case d'accoglienza, un circuito virtuoso, l'ultimo frutto della fantasia della misericordia. Ti piace lavorare qua? Sì, lavorare in agricoltura bene, io mi piace.